professori senza laurea hai scoperto che all'università ci sono dei professori che non sono laureati è uno scandalo chiamiamo le guardie purtroppo sarebbe piuttosto inutile perché è un fatto normale normale non vuol dire frequente vuol dire corrispondente ad una norma abituale che da sempre caratterizza l'università che io sappia in tutto il mondo sicuramente l'università italiana che acqua il migliaio scarso di anni di tradizione quindi a un suo senso allora non è mai stata richiesta a un professore di presentare il suo diploma di laurea non è richiesto questo so che è poco noto questo dato ci sono persino alcuni miei colleghi un pochino semplici i quali mi dicono non è vero e accampano una serie di considerazioni non è richiesta a me non l'ha mai richiesta nessuno insegno da molto tempo e non mi risulta che da averla mai vista sarebbe motivo immediato di ricorso da averla mai vista dentro a un bando di concorso universitario italiano non si chiede la laurea e professori universitari non è richiesta non è richiesta agli umanisti uno può insegnare qualsiasi materia filosofia o che ne so letteratura romanza filologia romanza senza essere laureato ma neanche i medici richiesta o meglio non è mai richiesta per insegnare in una facoltà di medicina che non è la stessa cosa che fare il medico e come ben sa insomma una cosa da detti i lavori ma siccome esistono strane favole su questo lo ricordo brevemente non è richiesta ingegneria non è richiesta perché il band insomma le richieste la ricerca di professori universitari si basa sulla loro competenza non sul fatto che abbiano delle certificazioni burocratiche in particolare ma lo vedremo l'abbiamo già visto lo rivedremo al 300 volte in altra sede un conto essere dottori in qualche cosa c'è avere la competenza dottorale cioè essere dotti e poter comunicare e insegnare sostanzialmente cioè trasferire ad altri e proprie competenze essere dottori e un conto essere professioni se qualcosa sono due cose che sentono pochissimo la maggior parte che mi risulti dei laureati in ingegneria non sono ingegneri cioè perlomeno non sono iscritti all'ordine ingegneri non gli conviene non lo fanno e così via ci sono moltissimi iscritti all'ordine gli psicologi che non esercitano la professione ci sono molti iscritti all'ordine di psicologi che non sono laureati in psicologia mille ragioni eccetera eccetera ma non ci interessa professione al professore non viene richiesta la laurea e infatti c'è una lunga tradizione presento subito qualche esempio perché colpisce la fantasia anche perché come vedremo riprendo degli esempi di persone con cui insomma con alcuni ho avuto molto direttamente a che fare con altri indirettamente e sono solo uno non proprio niente ho avuto perché è morto troppo tempo fa il sono degli esempi abbastanza evidenti cominciamo subito con questi professori a dottori che non sono dottori quindi è prof ma non è dot primo esempio che mi viene in mente il mio collega filippe d'averio davvero l'alsaziano dico davvero perché un po francesista francesologo e a persona di grande cultura adottissimo molto brillante invidiatissimo per questo in campo artistico dove artisti fantastici non brillano magari per spessore culturale ricordo sempre che michelangelo caravaggio cellini pur avendo a volte lasciato dei frammenti di biografie simili probabilmente saperne leggere e scrivere e lo forse leggere i conti cose del genere e non è laureato è stato professore a palermo dico anche in questo senso mio collega ti ho insegnato un anno a palermo con professore ordinario lui di più più a lungo però era professore ordinario pure lui e non è laureato ha una sua storia particolare perché non essere laureati non vuol dire essere ignoranti al contrario e tutti questi casi nel suo in particolare ma non vuol dire questo ma non è laureato faccio un altro esempio mio collega grandissimo sociologo per chi si occupa di sociologie perfettamente noto luciano gallino ci ha avuto a che fare tante volte stavano allo stesso posto in questo caso la stessa università stesso ambiente a torino il luciano gallino ha sviluppato seguito tutta la sua formazione nel contesto della olivetti con olivetti e donna è laureato e va bene e capirai il è un grande sociologo e non è laureato faccio un altro esempio carlo masini qui ci spostiamo sulla boccone di milano date a vedere sul sito della boccone uno dei padri da poccori professore merito di economia aziendale mi diceva che ho incrociato tante volte perché era il papà di quello che io consideravo mio fratello roberto masini purtroppo morto più di vent'anni fa e carlo masini personaggio affascinante alcuni suoi allievi che conosco perché sono amici miei ne dicono il peggio perché era molto insomma attento nell'interrogare però personaggio stranissimo intellettualmente e proprio mi capitò che mi dicesse qua e dicono era il presidente accademia di ragioneria che sono un economista aziendale e con molto orgoglio e molte eronia che devo dire mi dice io sono ragioniere punto era l'unica cosa qui tenesse vabbè purtroppo non c'è più però insomma io leo tanto bene e ero ragioni benedetto croce questo per dire il calibro a cui stiamo viaggiando è una serie di personaggi sofisticatissimi intellettualmente croce francamente il maggiore probabilmente essere farsi classici che fa ridere però insomma il più noto immagino filosofo italiano del novecento professore universitario un sacco di posti grandissimo intellettuale nella mia visione pure uno psicologo perché benché esiste tutta una mitologia di croce che influisce sul governo per assieme gentile allievo più ribelli eccetera eccetera sì per eliminare la psicologia dal mondo in realtà scritto un estetica che se vuoi essere un po fine sai che estetica vuol dire la studio della sensazione soggettiva estesis della sensibilità e se te lo leggi cosa che male certo non ti farà scoprirai che croce era uno psicologo vabbè possiamo perdere sto fatto comunque abbiamo citato quattro personaggi d'alto livello in mondi diversi da verio gallino e poi masini e poi croce però solo il primo che da verio è quasi un mio coetaneo ed è vivo gli altri purtroppo che io cito qua non lo sono anche perché per acquisire grande notorietà di solito ci vuole un po di tempo in campo intellettuale che va beh speriamo di restare almeno noi due ancora per un po in giro agostino gemelli medico in questo caso quello che colpisce non è il fatto perché era laureato gemelli edoardo gemelli in arte agostino era laureato in medicina ed era un medico teoricamente è lo so bene perché aveva a che fare anche con mio nonno litigavano talvolta per ragioni politiche il mio nonno era socialistissimo gemelli non tanto allora cosa succede che gemelli è noto a tutti tutti lo citano come un uno psicologo la psicologia all'università cattolica nasce per fare la psicologia e poi solo molto tempo dopo sviluppa la medicina a roma peraltro non a milano eccetera eccetera nel caso di gemelli interessante perché lui è uno professore di psicologia in questo caso è una dissonanza laureosa ed era un medico tra parentesi e qui vedremo anche esempio immediatamente successivo aveva questa caratteristica curiosa di non essere un professore cioè si era autonominato professore non è che ha fatto un concorso visto che quest'università era del vaticano lui era molto legato al sistema vaticano e quindi si autonominato professore ma il fatto interessante che era un medico cioè lo ricordo anche per i miei allievi uno che non sa quasi niente psicologia perché difficilmente a medicina in certi contesti sì ma in molti contesti non si studia psicologia o comunque qualcosa si fa di legato alla pratica di aspetti psicologici nel rapporto col paziente ma psicologia in senso stretto in linea di massima non si studia a medicina quindi punto e sono i miei colleghi giovani che dico come un medico quindi ne sa non sa un accidente se un medico di psicologia americano abbia una sua cultura naturalmente un altro caso cosiddetto don verze il quello che ha messo in piedi il san raffaele detto san luigi per gli amici l'ho incrociato varie volte nella mia vita e gli ho sentito dire anche a lui con le mie orecchie il ma certo strano sono rettore e non sono professore faceva dei ragionamenti di questo tipo in un modo molto deciso sempre un po inquietante ora è un filosofo non è un medico il è anche complicato se don oppure no una storia lunga comunque una istituzione che ha sicuramente una buona notorietà in senso scientifico medico nata anche lei con psicologia ha seguito molti aspetti anche sotterranei del costituirsi del san raffaele e la intitolata san raffaele perché è un'università confessionale e il perché è verze ci teneva molto san luigi appunto veniva detto per gli amici e il amici e conoscenti era più noto mio padre che non a me ma insomma era tra i molti che mi giravano intorno il quando ero ragazzino o poco più il il nostro è un filosofo se lavorato il filosofo nel senso che si è laureato in filosofia naturalmente e non sempre messo in piedi cose molto mediche lui e il monte tabor e però non aveva personalmente nessuna competenza medica di nessun tipo ed era il rettore dell'università fintamente nata per un corso di psicologia in realtà sin da prima di cominciare con l'obiettivo di mettere in piedi un sistema medico e di fatto tutta sulla medicina però ero filosofo ricordo ancora due casi estendendo un attimo il concetto per completare arrivare una conclusione di un paio ma quindi potrei mettere 100.000 ma ne metto due italiani molto rappresentativi che sono dei credo grandi intellettuali del nostro tempo del novecento non vado più indietro nel novecento la università è molto presente in italia quindi è fin strano che questi non siano laureati ma due grandi intellettuali del novecento grandi menti del novecento che non erano laureati non hanno insegnato in università ma uno è leonardo sciascia morto da un po immagino che qualcuno abbia presente chi sia diciamo grande scrittore letterato uomo d'ingegno del nostro paese che un maestro peraltro che whisky steiner maestro comunque era un maestro ed era ben lieto di fare il maestro e il certo punto sviluppo molto intelligente in gambissima eccetera ma non era laureato in senso stretto aveva il magistero come si diceva l'altro che mi ha sempre colpito e guglielmo marconi penso che marconi sia paragonabile se non sempre queste gerarchie un po ridico e superiore a un bill gates o certamente uno zuckerberg e quello che ha inventato la radio il signor marconi e quant'altro nel quale non si è mai laureato forse perché aveva una posizione sociale rilevante non pensava valesse la pena addirittura e perde tempo laurearsi ed è un super tecnico cioè è una di elevatissima competenze ingegneristiche eccetera anche un grande imprenditore comunque non era laureato va bene questo escluso se giusto per ricordare il fatto allora tu mi dirai bene ma allora cosa mi studio a fare perché io dico sempre che è meglio studiare sempre studiare studiare poi ancora studiare vai studia e laureati se croce marconi e tutti questi altri personaggioni tra l'altro sofisticatissimi non erano laureati perché mi dovrei lavorare io laureati che è molto meglio che non laureati non per avere il foglio di carta perché l'errore sta un po in quello questo il foglio di carta non ce l'hanno ma hanno studiato come pazzi sono persone che hanno vissuto operando ma continuamente confrontando la loro attività enorme con lo studio c'è tutta gente che ha fatto un sacco di cose ma continuativamente studiato con una grossa presenza nella pratica professionale di vario tipo ma anche grande studio quindi faccio presente due cose uno difficilmente andrei lontano in contesti dove ci vuole la testa e sviluppare il nuovo senza studiare veramente difficile qualunque cosa tu faccia due quanti sono i professori senza laurea è importante sottolineare che si può benissimo insegnare avendo una grande competenza non avendo una laurea perché non ci vuole la laurea per insegnare perché se tu hai un pensiero molto originale non interessa niente da dove l'hai preso cioè se ti è andato un timbro sei superato l'esame oppure no o che è un altro dei motivi se hai una laurea non riconosciuta cioè studiato in persia e sei venuto in italia quindi non si riconosce non va bene non è la stessa cosa non si sa che ce ne importa noi è una grande competenza va benissimo insegna cioè trasferisci la tua conoscenza non sei solo un applicativo non sei solo un produttore di qualcosa ma se anche uno che ha acquisito una competenza di inquadramento teorico e sei in grado e anche la volontà di trasferirla a alle nuove generazioni che poi la svilupperanno a loro volta però nello stesso tempo il mostrare come ci siano dei professori che non sono laureati perché non è richiesta la laurea ripeto per insegnare all'università mai stata richiesta la maggioranza lo è abbiamo citato meno di dieci persone tra l'altro gli ultimi due non come universitari ma solo per evocare quanto si può fare studiando come matic e mettendoci tutto il tuo sprint dove puoi andare molto lontano ma senza l'aria sarà difficile non perché la laurea il timbro ma per lo studio il percorso che la laurea ti fa fare la quantità di studio che ti costringe a seguire il fatto che ti costringe a studiare delle cose che tu non hai voglia di studiare ma che sono utili non semplicemente leggere quello che ti piace ma leggere quello che serve per avere le gambe per camminare poi camminerai tu nella tua strada ma questo è l'elemento essenziale quindi tu devi essere molto in gamba molto convinto studiare come un matto e probabilmente potrai però stiamo parlando di singole persone fare carriera anche nell'intellettualità e nell'università nel 99,9 per cento dei casi sarai laureato quindi laureati a presto a presto